Aurora Ramazzotti ha un nuovo amore. Da qualche mese, la figlia di Michelle Unzicherederos Ramazzotti, pubblica tenneri scatti sui social, che la ritraggono in compagnia di Goffreddo Cerza. Lui studia ingegneria a Londra. La ventenne vola spesso da lui. Nella stessa città, infatti, vive anche Sara Daniele, la migliore amica di Aurora. Lo scorso gennaio, una foto in cui si scambiavano un bacio, ha reso ufficiale la relazione. Da lì, le immagini della coppia si sono moltiplicate. Ogni scatto è accompagnato da una frase romantica. In una foto che ritrae Aurora, Goffreddo commenta con un verso tratto dalla canzone di John Legend All of Me, tutte le tue perfette imperfezioni. In un'altra foto di coppia, Lara Ramazzotti dice, cosa mi hai fatto? E poi, c'è quel tenero abbraccio, pubblicato solo qualche giorno fa, accompagnato dalla didascalia. Il tempo si è fermato. In occasione della festa di compleanno della madre, la giovane ha presentato Goffreddo Michel Hunziker, vedi foto in alto. Insomma, Aurora sembra aver trovato l'altra metà della mela. Moro, occhi scuri e fisico scolpito, Goffreddo Cerza è un giovane romano. Studia ingegneria a Londra, la città che ha scelto per vivere. In alcune foto, è ritratto con Asia Nuccetelli, con la quale condividerebbe un'amicizia. Come Aurora, ama molto viaggiare. Sui social si definisce un viaggiatore e un avventuriero. Chi se ne frega.